Un protocollo di intesa per una pubblica amministrazione che punta alla socialità inclusiva, destinatari dell'accordo i detenuti ristretti negli istituti penitenziari d'Abruzzo. Io tengo a sottolineare che mi piace molto di questo protocollo che l'amministrazione penitenziaria ha stipulato con l'Inps e che grazie ad esso sarà più facile per i detenuti avere le informazioni lavorative che gli interessano rispetto alla loro condizione ma anche alla disoccupazione e quindi questa è una risposta a esigenze che sono state manifestate dai detenuti che spesso lamentano magari qualche eccessiva pesantezza della burocrazia e io credo che grazie a questo protocollo tutto questo potrà essere svolto in modo più semplice e più efficace e io credo che questa sia una cosa molto importante. Una burocrazia più snella che prevede accessi programmati presso le sedi dell'Inps d'Abruzzo da parte del personale dell'amministrazione penitenziaria. L'ambizione è quella di contribuire ad un'opera di modernizzazione e innovazione e soprattutto di reinserimento dei detenuti nella società in nome del welfare. È un progetto che mira a prendersi in carico queste persone, quindi attraverso i servizi che vengono svolti dal personale amministrativo del proprietorato interregionale potranno presentare le prestazioni presso i nostri uffici e avere la celerità dei canali privilegiati e anche una personalizzazione del servizio. È un modo per favorire l'inclusione sociale di queste fasce più deboli. Grazie.